Nel cielo d'Egitto con la squadriglia cacciatori Baracca, una macchina cinematografica è piazzata sulle ali dell'apparecchio del comandante della squadriglia, capitano Carlo Ruspoli, e lo spettatore sarà trascinato nel vivo dell'azione in compagnia degli intrepidi cacciatori. Volando sul deserto, in caccia libera, cercando nel cielo e in terra il nemico da attaccare. I dodici caccia picchiano e mitragliano appostamenti avversari. Automezzi e autoblindo britanniche sotto le raffiche dei nostri cacciatori. La squadriglia all'insegna del cavallo impennato, quella del grande Asso Baracca, festeggia la centesima vittoria conquistata nel cielo egiziano con l'abbattimento di sei Spitfire e tre Boston.